benvenuti in questo nuovo spotlight oggi parliamo delle mod più importanti di questa nuova versione di minecraft questa mod mi è stata richiesta tantissime volte e ho ricevuto diciamo tantissime tantissimi messaggi dove mi chiedevate di farla e oltre a questo ho deciso di farla anche perché è una delle mod più avventurose di questa nuova versione di minecraft ovvero aggiungere le quest diciamo soddisfacendo queste quest questi quesiti riusciamo ad ampliare questo villaggio e guadagnarci qualche soldo il villaggio come vedete diciamo è appena nato se così vogliamo dire grazie a diciamo a queste quest riusciremo a espandere questo villaggio in questa mod troviamo diverse tribù che sono tantissime ad esempio abbiamo anche i bizantini che sono stati aggiunti questa nuova versione di minecraft i bizantini che hanno un villaggio prevalentemente di clay e di brick quindi è un villaggio molto interessante quindi se lo trovate usate quello che è molto interessante anche perché è nuovo poi troviamo anche tantissime altre tribù come esempio cinesi così via ora non mi ricordo tutti perché sono tanti e oltre a questo diciamo ogni villaggio ha una propria una propria farm sempre qui troviamo gli alberi come vedete che sono molto importanti perché tra l'altro tra tra una delle queste è quella di raccogliere degli alberi quindi perché serve per espandere il siamo il loro villaggio e quindi si possiamo prendere gli alberi poi abbiamo questo esempio che il pescatore questo esempio potete accettare o rifiutare la quest dove in pratica lavorate per lui oppure possiamo quindi aiutiamo il pescatore poi possiamo aiutare ognuno della tribù naturalmente e oppure possiamo andare qui dove c'è diciamo la parte centrale della della villaggio dove possiamo incontrare dove questo che ci spiega un po come funziona il villaggio e poi dovrebbe dovremmo trovare una signora dove possiamo ecco dovrebbe essere lei dove possiamo vendere gli oggetti e e comprarli quindi esempio vendendo gli oggetti noi guadagniamo le monete e poi li compriamo possiamo comprare anche gli altri oggetti quindi aspettate che vado avanti qui forse deve essere così questo sta dormendo comunque allora qui possiamo vedere la popolazione quindi è formata da 10 adulti quindi 5 5 5 femmine 5 maschi che si possono riprodurre naturalmente nascono i bambini e così via poi abbiamo i militari che allora quelli che diciamo che difendono sono 202 quelli che attaccano 36 poi abbiamo 6 villaggi nella mappa poi le costruzioni qui sono ecco questa dove si trova questo villaggio le coordinate e poi qui abbiamo quello che serve per espandere diciamo il villaggio come vedete già hanno 12 pezzi di legna quindi già possono espandersi più o meno hanno questi altri pezzi di legna sono quasi pronti dobbiamo raccogliere la oak wood e il tech tech che sarebbe questa legna qui e naturalmente giocando a questa mod diciamo giocando con questa mod dobbiamo per forza usare la una crafting guide oppure la ney per diciamo scoprire i metodi di crafting poiché nel post ufficiale non ci sono e naturalmente sono veramente tanti perché dobbiamo contare che non lo so ci sono tantissimi villaggi e quindi ogni villaggio ha anche un proprio diciamo un proprio materiale che ha un proprio metodo di crafting e così via e poi oltre a questo aggiunge anche questi oggetti che sono ecco questi sono gli oggetti che vi aggiungono i bizantini che sono veramente molto belli e aggiunge anche armi e così via e spero di avervi detto tutto il video di oggi è finito noi ci vediamo al prossimo video volevo fare un gameplay su questa mod però non lo so vedremo e comunque ho trovato una mod veramente molto interessante che di cui ve ne parlerò in futuro e niente noi ci vediamo al prossimo video io sono Rapa iscrivetevi al canale per restare aggiornati mettete mi piace per supportarmi così al più presto vi carico un nuovo video commentate se avete qualche dubbio o avete capito qualcosa volete consigliarmi qualche mod mi raccomando consigliatemi qualche mod perché diciamo sono un po' a corto di mod e consigliatemi anche qualche mod che non ho già fatto perché la maggior parte di quelle che mi consigliate già ho fatto e naturalmente vi ripeto che le mod che faccio sono quelle che mi consigliate voi diciamo non di mia scelta vado a rifare sempre le stesse mod e niente scrivetevi mettete mi piace commentate e scusatemi se sono stato molto veloce ma ultimamente non sto molto bene quindi forse sentire anche dalla voce e comunque noi ci vediamo al prossimo video e bella raga